buongiorno e ben ritrovato voi tutti cari amici e sì questo terzo esclusivo video che sto facendo adesso lo faccio perché proprio negli ultimi istanti è finita una bellissima partita tra federer e Djokovic perché il serbo Novak Djokovic detto Noll ha superato nettamente per 3 7 a 0 Djokovic numero 2 al mondo Roger Federer numero 3 ATP e accede alla finalissima del primo grande slam di tennis maschile Australian Open 2020 in 2 ore 18 minuti con il punteggio di 7 6 7 1 6 4 6 3 qui riesco a notare come comunque il primo set è stato quello più duraduro 1 minuto e 4 secondi il secondo 39 minuti il terzo 35 minuti la vittoria di Djokovic era abbastanza scondata tra l'1 e 11 l'1 e 13 quindi adesso andrà a sfidare Djokovic il vincente dell'altra se dell'altra semifinale ovvero regia ma dominic team contro Zverev che si svolgerà domani ora mattutina italiana quindi chissà se per Djokovic potrà arrivare il primo trofeo della stagione e sicuramente con questo video è davvero tutto per oggi a domani grande Djokovic vive al Dennis forza Djokovic ciao